La provincia di Prato cerca inquilini per il fondo commerciale ai civici 81012 di via Cairoli, sfitto da molto tempo. Oggi è stato pubblicato l'avviso per la concessione amministrativa dell'immobile posto al pian terreno di Palazzo Buonamici, sede del Lente, e ampio 102 metri quadrati. Il prezzo dell'affitto a base d'asta è di 12.240 euro all'anno, pari a 1.020 euro al mese e a 10 euro a metro quadrato. Chi è interessato dovrà presentare un'offerta al rialzo, c'è tempo fino alle 17 del 1 agosto per farlo. L'apertura delle buste è prevista per il 25 agosto alle 11. La provincia punta quindi a mettere a frutto il proprio patrimonio immobiliare. Nel giro di due anni infatti sono stati messi in vendita tutti i fondi commerciali al pian terreno di Palazzo Buonamici sul lato di via Ricasoli. Vendite quasi tutte andate a buon fine. Poi è andata all'assa l'intero Palazzo Novellucci per oltre 3 milioni di euro, che ancora risulta in venduto. E infine recentemente è uscito l'avviso pubblico per dare in concessione il negozio al civico 4 e 6 di via Cairoli, che si è aggiudicata alla società Dade SRL, proprietà del vicino Caffè Buonamici, che quindi potrà allargarsi. E ora quello per i civici 8, 10 e 12.